benvenuti carissimi in questo nuovissimo video che comunque c'è sempre il vostro caro nico dei pokemon come sempre prima iniziate bene benvenuto ai nuovissimi iscritti del canale e bentornati a quello che ci siamo sempre ragazzi di quest'oggi andiamo ancora su pokemon pocket e andiamo ancora su un po di pack opening un po di lotte vediamo se riusciamo a costruire qualche mazzo ma principalmente pack opening e saliremo di livello quindi avanziamo un po in questo fantastico gioco ragazzi detto questo vi ricordo che qui sotto in descrizione avete il mio instagram il mio link di card market per acquistare tutte le vostre carte competitive e per collezione e avete il link del negozio di albero bello e inoltre lasciate like e iscrivetevi e fatemi sapere se vi piacciono i video su pokémon pocket io ci sto perdendo davvero davvero il divertimento cioè mi diverto davvero tanto perdo un sacco di giorni ragazzi tanta tanta robina ma andiamo in game ed eccoci qui ragazzoli con la nostra fantastica schermata di pokemon pocket cari miei allora 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 facciamo le cose con ordine ovvero prima di tutto andiamo nel negozio a recuperare il pacchetto giorno lì ragazzoli ricordatevi giornalino una classica dorata e uno di quelli vediamo quanto siamo qui 12 un altro prendiamo un altro di quelli da sei ora abbiamo ben due pacchettini da aprire quindi iniziamo da questi iniziamo da queste ragazzoli apriamo questi due pacchettini suono adoro e andiamo andiamo con una volta amitù alla ricerca della della nostra immersivi ragazzi scusate ragazzi ma andiamo qui cosa abbiamo ragazzi abbiamo qualcosa crabbi peti lille buono che ci serviva doduo marcro e siamo una bella full arte ragazzi uuuh e invece no abbiamo un mewtwo che ci serviva ragazzoli ci serviva quindi buono così il primo youtube portato a casa tanta tanta roba e siamo anche saliti di livello mamma mia mamma mia avanti 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 l'idea spiegato E ragazzi, prima di aprire l'altro pacchetto, direi di andarci a prendere il livellino e altre 12 clessite, quindi un bel po' di pacchetto quest'oggi. Apriamoci il secondo pacchetto gratuito che abbiamo, quindi suono, perfetto, apriamo. E ci siamo ragazzi, ci siamo, ci siamo, ci siamo, lui, ok, nessun suono, da Vuru, Heliolisk, Hitmor, Porygon, che ci mancava, e l'ultima è Dodrio, ok, 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 qui solo una carta che ci mancava ragazzi, solo una, ma va bene, va bene, va bene, però, però. Qua se abbiamo completato il set delle bustine qui, eh, dimmi tu, quindi buono così. Allora, ora direi che proviamo ad andare a fare uno scambio misterioso, così sblocchiamo anche l'ultima delle missioni giornaliere e poi la recuperiamo tutti insieme. Allora, vediamo, scambio misterioso, scambio misterioso, abbiamo un logo Arus Lopock, vediamo se c'è qualcosa di un po' più interessante. Qui niente, qui niente, qui niente, uh, qui c'è un carinissimo Q-Bomb, però, vediamo, Bulbasaur ne abbiamo già due. Questo è interessante ragazzi, potremmo recuperare la Misty. Vediamo cos'altro abbiamo qui sotto, uh, ragazzi, qui c'è un bel Gardevoir, però, facciamo questo ragazzi, qui c'è un bel Gardevoir. Voglio quel Gardevoir. E vediamo se qui, no ragazzi, peccato, peccato, ci siamo presi un Ivi, che mi sa che già avevamo, o ci mancava? Peccato, era a fianco, grazie Alex. Ok, e niente ragazzuoli, qual'è l'altra così interessante che abbiamo visto? Qui niente, qui niente, magari quel Moltres, però, vediamo. Qui ragazzi, ci manca tutto e vorrei la Misty. Vorrei la Misty, perché comunque come carta aiuto è sempre utility. E non solo, potremmo, uh, tanta roba ragazzi, tanta tanta roba. Qui ci mancava tutto, ma ci siamo beccati. Una bella, Misty, Misty, per ogni volta che esce testa, lanci una monotezza, per ogni volta che esce testa, carichi un'energia ragazzi. E' fortissima. E ce la portiamo a casa così. E arriviamo a 100 carte diverse. Buono, 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 buono. Direi che ci siamo, qui ci mancava anche tutto. Ringraziamo Moje. E vediamo un po', vediamo un po', ragazzi. Direi che con gli scambi, per oggi, abbiamo già dato. Direi di andarci a recuperare tutte le missioncine giornaliere. e ci becchiamo altre clessidre, quindi tanta roba. E ragazzi, possiamo aprire un altro paio di pacchetti. Vediamo se puciamo anche ancora clessidre di qui. Sarebbe molto interessante, no? Ce ne manca una, va bene, va bene, va bene. Però abbiamo una missione, qui, che abbiamo completato. Ok, ricevi. Missione conclusa. Questo però non è quello che serve a noi. Va bene, va bene, va bene. Allora, abbiamo ancora una missioncina, qui, da recuperare. Vediamo che cos'è. Cos'è? Ah, sì, sì, sì. La missione, giustamente, del mazzo del Mewtwo, che abbiamo trovato, ragazzi. Ci sta, qui ce lo fa giocare con un po' di misto, ma abbiamo già una lista per il Mewtwo, ragazzi. Tanta roba. Allora, allora, allora. Qui abbiamo un po' di pacchetti, che possiamo aprire. Rifacciamo un giro qui, vediamo se è cambiato qualcosa. Uh, effettivamente è cambiato. C'è un electrode, qui. C'è un altro guard, guarda, che possiamo provare a prendere. Che non sarebbe male, come cosa. Un gloom. E vediamo. Io direi, ci proviamo a prendere questo guard. Guard è fondamentale, ragazzi, per il mazzo Mewtwo. Anche perché adesso abbiamo anche trovato Mewtwo. E quindi, ci sta tutto a recuperare. Tanto le clesside dorate ce le abbiamo. Quindi, direi di provarci. E lui. Let's go, ragazzi. Grandioso. Grande pescata. Ce l'abbiamo fatta. Ci portiamo a casa un bel card. Guarda. Un altro fortissimo, ragazzi. Assegno un energy in più a turno al Pokémon psico-avversario. Fortissimo questo kardevoir. E ce lo portiamo a casa, ragazzi. Buono così, buono così. E ora direi di andare ad aprire. Ringraziamo Worf per questo kardevoir. E che direi, che direi di andarci ad aprire questo paio di pacchetti. Perché no? Continuiamo con Mewtwo. Vogliamo l'illustration rare di Mewtwo. Quindi, ovvero, vogliamo la Immersive. Suono, come sempre, ben apprezzato. E andiamo. Andiamo. Altri pacchettini. Giriamo, 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 giriamo. Tu. Andiamo. Niente suoni, però abbiamo una Ulo. Rhydon. E Optile. Cotton In. Vediamo. E' una Ulo. Ed è di... Uuuuh. Invece è una bella gallery. È una stella. Di Cubone. Meno male che non abbiamo provato a prendere. L'ho detto. Ma sì, la troviamo. Infatti. Ce la portiamo a casa, ragazzi. Unica che ci mancava. Però. Comunque, 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 è sempre una bella carta da avere nel nostro raccoglitore. Cominciamo a trovare altro invece che ditto. Direi anche. Visto che ci siamo. Ne apriamo un altro. Abbiamo le clessite, quindi, perché no? E vediamo un po'. Altro pacchettozzo. E questo è girato. Lo giriamo. E andiamo. Giovanni. Buono. Anche se avevamo già due. Itmo già ce l'avevamo. Ivi già ce l'avevamo. Ambra Antica già l'avevamo trovata. E abbiamo qualcosa, ragazzi. Abbiamo... Il Giovannone. Full Art, ragazzi. Bello, bello, bello. E questo lo giochiamo pure. Tanta roba, ragazzi. Tanta, tanta robina. Davvero tanta roba. Ci siamo beccati la bellissima Full Art di Giovanni, non solo. Anche la regular. Buono così, ragazzi. Finalmente, finalmente, abbiamo un po' di cartine. che sono davvero belle da vedere. Allora, detto questo, detto questo, andiamo in negozio. Vediamo se possiamo prendere altre clessidre. Vediamo un po'. Allora. Ancora no, però, 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 ragazzi. Facciamo una bella cosa. Noi la giornaliana l'abbiamo fatta, sì. Quindi direi di concludere, anche questa volta, il video. con un'altra lotta della CPU. Andiamo nelle lotte per gradi intermedio contro Charizard. E cosa abbiamo qui? Con un mazzo acqua. Va bene, va bene, va bene. Vediamo un po' che mazzo acqua abbiamo qui. Proviamo così, senza perdere tempo, ragazzi. Andiamo. Allora. Vediamo. Iniziamo per secondi, quindi già possiamo attaccare. Abbiamo già un... Purtroppo non quello che volevo. Però mi sa che dobbiamo farlo solo uno acqua. Controlliamo, controlliamo. Allora, inizia il nostro avversario. Non può assegnare energie, però pesca due carte. E tocca a noi. Ok, anche noi abbiamo ricerca accademica e peschiamo due carte. Farfetch e Cloyster. Quindi al momento nessun Pokémon acqua. E a questo punto attacchiamo di Doduo e via. Vediamo un po'. Complimenti al nostro avversario che ha trovato già entrambe le ricerche accademiche. Ratata, Growlit, assegna su Charmander e ci attacca, ragazzi. La cosa buona è che quando ci attacca si scarta l'energia. La cosa brutta è che comunque... Allora, facciamo così. Siccome dobbiamo evolverlo e questo attacca con tre direi di assegnare l'energia qui e di attaccare con Doduo. Facciamo così. Cincino attacca con tre. Ma cosa fa? Stiamo finendo di andare per ogni poca nella tua panchina. Carino Doduo. Carino vincino. Allora, ci fa fuori Doduo. Noi metteremo Farfetch all'attivo perché fa 40 danni, quindi è buonissimo. Ancora Farfetch. Non ci arriva acqua. Quindi dobbiamo modificare il nostro mazzo, ragazzi. Però, 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 nel frattempo ci portiamo questo K.O. di Charmter a casa con Farfetch. Va bene così, ragazzi. Va bene così. Preferirei prendere un Pokémon acqua, al momento. Bull per il nostro avversario. Energia è 40 danni, ragazzi. E qui si mette male. Uh, Krabby. Attenzione, attenzione, ragazzi. Abbiamo Krabby. E Krabby è acqua. Quindi buono così. Allora, facciamo 40 danni. Lo indeboliamo con il nostro Farfetch. e lui ci farà il K.O., è vero. Però noi ci prendiamo il primo K.O. con l'acqua. Ebbene sì, dobbiamo stare attenti a non farci buttare giù questo Krabby. Abbiamo Kingler, però se lo metto adesso il nostro Kingler non può attaccare, vero? Perché attacca con tre. Quindi fare una cosa. Attacchiamo di Krabby. Ci prendiamo questo K.O. con l'acqua. E poi, facendo evolvere Kingler facciamo il K.O. Kingler quanti anni fa? Sto 80 danni? Ok. Allora, ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Quindi, Energia Kingler Il Kingler Il Kingler della vittoria. Cerca accademica. Per abbiamo una Ball direi di usarla. Vorrei mettere un altro Pokémon. Ehi, ce la possiamo fare? Oh, ce l'abbiamo fatta. Usiamo la Ball Ok, ci arriva un altro Krabby che io metto volentieri a terra e direi di mettere anche l'altra. E andiamo, ragazzi. 80 E se esce testa One shot, ragazzi. 160 danni. 80 per ogni testa. E mi sa che ci siamo portati anche a casa a quest'altro obiettivo, ragazzi. Quindi tanta roba tanta roba questo Kingler. Tanta robina. Vediamo se mi hanno sbloccato tutto. Perfetto, ragazzi. Perfetto. E fatto questo credo che possiamo andare a prendere altri due Clessidre. Vero? Adesso abbiamo da affrontare il mazzo Blastoise. vediamo che con le carte che ho trovato possiamo cominciare a creare qualcosina. Ma prima dato che ci siamo possiamo andare ad aprire un altro pacchetto, ragazzi. Mi sa di sì perché facciamo così scambio completato. Possiamo prendere anche un altro. Quindi buonissimo così ma ragazzi questo pacchetto ce l'apriamo nel prossimo video insieme agli altri due pacchettozzi così facciamo un po' di pack opening ogni video. Detto che è questo vi ringrazio se siete stati qui con me fatemi sapere delle carte che abbiamo cosa ne pensato delle carte che abbiamo trovato oggi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzoni ciao a tutti Grazie.